Buongiorno e buonasera, qui sono da Yoshi e oggi ancora una volta siamo su Schoolgirls. Per il video di oggi intendo farlo ancora una volta in arcade in modalità normale, ma questa volta abbiamo due personaggi completamente nuovi. Perciò uno di questi è Fukua, questo può andare, e l'altro è Miss Fortune. Ho deciso di prendere due personaggi diversi e richiesti dal pubblico, e quindi eccoci qui. Ok, Parsel. Prima Eliza mi ha fatto un culo grande come una casa, vediamo se... Allora, non vedo niente. Smetti di sparare! Ah, perché sei Big Band? Perché devi essere Big Band? Mi fa elzare! Ma dai, sei grosso e... Sei grosso, perché... E non mi entra la cosa, ovviamente. Non mi entra mai. Muori! Oh! Ma perché non parte il medio? Porco cane! Aspata! Ti sparo! Ah! Cacchio, la prima distrazione era andata anche bene. Adesso sto... Mi sto agitando inutilmente. Questo colore mio familiare... Valentine? Oh, madonna! No! Non te lo faccio fare. Eh, vabbè, ma... Puoi non mangiarti gli input? Schoolgirls? Oh, madonna! Non riesco a prenderli. Ma perché sei troppo lontana? Ogni volta. Gesù! Oh, cazzo, mi è partita la combo. Ok, adesso cambiamo. Così, possiamo... Uh! Così, facciamo un po' di... Eh, troppo in... Sono sempre troppo in là. Smettila! Sì! Bam! No! Ha parato, bastarda! Oh, wow. Ok, mi ha conterrato. E sì, in quel segno strano bianco non potevo muovermi. Ok. Mi counterano. Sono appena fuori dal mio range. Oggi sfiga. Oggi sotto. Ah, ok. Sperta, sguarda. No, non posso lasciarla all'entonare. Oh, andiamo. Ero troppo... Ero sopra. Ero... Andiamo. Provo a forci. E non mi entra la cosa. Au. Au. Ah! Smettila! Mi sforzo non è forte in arcade. Aia! Puoi cambiare? Quando ti dico di farlo? Grazie. Ancora. Ah ah. Ok, per il prossimo uso un po' di misfortune. Abbiamo fatto più che altro fu qua. Double. Ma perché deve essere double? Bella... Bello sottofondo qui. Mi piace in particolar modo. Oh. Au. Lo fai alzare? Grazie. Ah, cazzo. Stavo per breccare. Vai via. Stavo per fare la presa. Buttati nell'angolo. Au. 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 Fai uscire dall'angolo? Grazie. Dai! Quando faccio best... Quando faccio... Estrash fever. Falla andare. Ah. Me lo fai partire? Misfortune? Misfortune? Adesso, questa farà stoico, da una certa. E non... Oh, non mi entra lo special. Non mi vuole entrare. Oh, stavo per fare stoico. Guarda. Ah! Figlia! Ok, mi fatti ingazzare. E ti faccio una bella balsetta. Bleh! Non l'abbiamo unitato. Una specie di tricobelzo, ormai. Oh, vai via. Perché sei... Entri da qui? Sei uscita dall'altra. Vabbè, dobbiamo ancora capire... Come si fa a capire da che parte entrano. Ok, sparagli! Oh. Sì, sì. Brava Fuqua. Come al solito mi devi tirare fuori tu dai guai, cacchio. Cosa dobbiamo? Pico che figlia, credo. Ok. Ah, ok. Allora, vediamo. Au. Oh, ma andiamo. Stupido assist. Allora. Sono sempre fuori. O col meglio, o col pesante. Non è possibile. Cazzo Fuqua. Aia! Smetti di farmi sure you can. Smetti di farmi sure you can. Smettila! Oh, andiamo! No, è ingiusto. Smetterà a spawnare... Coso, Gregor. Se glielo lascio fare. Smetti la figlia. Vai via. Mamma, lo fai... Eh... Cat Scratch? Quando ti dico di farlo? Non lo fa mai. Muori, figlia. Oh. Bicoc non mi fai a niente. A che se poter spammare Argus. Oia, ma te puoi spiegare. Feraleggia cazzo perché mi piace Ho fatto solo 5 vittorie Ma c'è un'altra 3 e poi c'è Maria Che balle Perché Fukua me lo sta rendendo complesso Perché non arriva da nessuna parte E fuori di nuovo Aia Deathcrawl alla cieca Fa sempre male Perché non mi è entrato calcio pesante Muori Painwild Non ho voglia di far contare Fuori Ah stoico merda Ok disparo Ah soddisfacente sempre Fare il trapano Devevo abituarmi con Fukua Perché mi sforzo non l'ho provata tipo orsi come la scorsa Con l'Iso più cose Fukua l'ho provata tipo stamattina L'ho visto che se rebella non era Fattibile Perché non riuscivo a incantare un cazzo Ma lo fai partire il trapano Con ti tico di farlo partire E oggi Oggi bo Ah sì Ah sì Oh Ok Ho capito come si fanno i cloni Aia Quindi questo deve essere Quello che tira per aria Probabilmente Giusto Eh no non lo è Sono Sono perplesso Au 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 Ok Ok Dove si è cercata Ora muori Aspetta che mi è vicino Boom Special quello grosso Ok Ancora uno Poi c'è Marie Filia e Filia e Non so capire chi è Credo sia Beowulf No Non è vero è picco Posso colpirti Posso colpirti Solo quando parano Andiamo Andiamo Sti crossa E non mi entra il calcio pesante Cioè il pugno pesante Allora Ho fatto un solo pugno Leggero opposta Per non farti uscire Cazzo filia Ok Ok Che colpire strano Lamentato trapano Bene E qua si mangia il di input E questo è il titolo che metto Probabilmente Ok Ti faccio esplodere Se riesco a Boom Presa E ora Marie E ora si piange Più o meno Con FUPA Non è complessissima Marie ho notato Dei tipo Spammare attacchi pesanti E Ed attacchi pesanti Di FUPA Sono straveloci Visto Faccio pugno Calcio pugno E funziona Se me fai fare Se me fai fare Ai Ai Puoi scendere dal tuo trono Grazie Au Ah è provato eh Aia Ci ha riprovato E mi ha pure preso Questo è abbastanza efficace Ok Non volevo neanche cambiare Aia Ci sta Ai Fair edge Grazie Adesso è un Problemo di multiplier Certo 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 Non fanno niente Marie Tipo Flatliner Il flatliner Di Valentine Non serve a niente Aia No dai Ero fuori Ok Cambia Fuqua adesso però Siamo statici Eh un attimo Voglio fare il trapano Sii Muori E' bene che se ne va così Tipo Skull Horton Me ne frega niente Vai via Ma vai via Me ne frega Ok Con questo video abbiamo finito Come al solito se volete che utilizzi Personaggi diversi nel prossimo arcade Scrivetemelo nei commenti Questa era Schoolgirls e io sono Shadow Yoshi Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più Lasciate un commento, mettete mi piace O iscrivetevi al mio canale Detto questo però abbiamo concluso Perciò ci rivediamo come sempre in un prossimo video Bella